Tradizionalmente gli investimenti nel settore immobiliare sono sempre stati accessibili solo ad una limitata parte della popolazione. Questo perché richiedono grosse risorse di denaro da investire, conoscenza approfondita del settore e importanti contatti con gli operatori. Oggi con Recrowd, piattaforma di crowdfunding immobiliare, puoi superare questi ostacoli. Infatti potrai partecipare a progetti altamente redditizi con bassi importi di denaro e potrai diversificare il tuo capitale su più progetti, aumentando la marginalità e la sicurezza delle tue operazioni. Tutto questo senza bloccare i tuoi capitali per lunghi periodi e soprattutto senza nessuna commissione. Con Recrowd, il mattone diventa smart. Partecipa anche tu alla rivoluzione degli investimenti immobiliari. Grazie a tutti.